Io vedo Paolo, Paolo grazie, Paolo è una delle persone che tengono pulita la ribera, grazie Paolo, le nostre figuranti meravigliose, dov'è il doge? Un giorno ciao Roberto, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao bambini, evviva i figuranti! Mi sento fatto che posso? ...a punto tv nella sezione cultura e poi riviera a Pellica e qui potrebbe vedere tutte la giornata, il corteo attuale, il corteo storico con tutti i figuranti e anche le curiosità della giornata, naturalmente è giusto e doveroso ringraziare anche tutte le persone. ...la cantinella ...brava signora ... 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 percorreremo il centro di Dolo con tutto il corteo storico di Riviera Fiorita, ad animare le nostre situazioni storiche, le nostre rievocazioni storiche, Venezia Classica, con quattro figure, quattro personaggi della commedia dell'arte, un po' così, un po' burloni, che raccolgono foto e distribuiscono storie. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.